Abitava in questa palazzina gialla, in una traversa di via Marconi, nei pressi della caserma di fronte alla Biverbank, la coppia che nella giornata di ieri, forse nella serata di martedì, ha deciso di farla finita. I vicini li raccontano come due coniugi conviventi estremamente riservati. L'uomo, Walter Kondo, era sofferente, malato da molti anni di tumore. Gli ultimi mesi erano segnati da una sofferenza che non riusciva più a sopportare. Da lì, con tutta probabilità, la decisione che è culminata in quel terribile gesto. Sono stati ritrovati i corpi da un contadino in una strada sterrata che costeggia la provinciale all'altezza di Castelletto Cervo. Prima, con tutta probabilità, un colpo inferto alla donna, un colpo d'arma dal fuoco e poi l'uomo l'ha fatta finita. Abitavano qui estremamente riservati, dicevamo. Un solo vicino ci ha raccontato alcuni dettagli. Una persona estremamente buona. Di sua iniziativa aveva dipinto tutta la staccionata che circonda queste due palazzine. E evidentemente il dolore ha purtroppo avuto la meglio di lui. Un gesto che ha sconvolto tutto il paese di Cossato. Il biellese intero, segnato, come dicevamo, da una malattia. Purtroppo non avevano figli. Pochissime le persone che decidono di parlare di loro, anche il sindaco non li conosceva. Ha espresso grande rammarico, grande shock per un gesto di tale portata. Forse, insomma, se qualcuno magari avesse avuto un rapporto un pochino più stretto, avrebbe potuto in qualche modo aiutarli. Al momento i carabinieri non possono rilasciare dichiarazioni significative. È intervenuta naturalmente la scientifica. Ora è tutto in mano alla procura. Ma dai primi rilevamenti si deduce, insomma, quale è stata la dinamica di quel terribile gesto. Quindi un omicidio, suicidio che ha scosso il paese di Cossato. Il rammarico, dicevamo, molto grande è che si tratta veramente di due bravissime persone, molto riservate, segnate da una malattia che purtroppo aveva colpito l'uomo già da molti anni.